E' stato un grande successo il Canta Natale 2021. Per questa edizione è stato scelto il classico di Miriam Makeva Patapata con un testo scritto per l'occasione in versione natalizia. L'evento era stato sospeso lo scorso anno per l'emergenza sanitaria. E' tornato quest'anno ai giardini dell'Arena e con una delogazione ridotta sotto le finestre di pediatria. I presenti esponenti della politica e del mondo sanitario insieme a tanti padovani, grandi e piccini, hanno ballato per salutare i piccoli pazienti di pediatria e portare loro la gioia del Santo Natale. Grazie a tutti.